Ottimalità Aristotele, 384-322 a.C., filosofo, scienziato e logico greco antico, ritenuto uno delle menti più universali di tutti i tempi, in politica dice «Uno Stato è governato meglio da un uomo ottimo che da un'ottima legge». Commento. L'ottimalità è un termine che riguarda le decisioni razionali prodotte dalla mente. Aristotele, parlando di legge e di uomo, intendeva la definitiva ottimalità, quella prodotta dalla coscienza.